Bene, salve, buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento serale, quarto appuntamento, penultimo appuntamento della settimana. Oggi abbiamo assistito per quanto riguarda le principali piazze finanziarie europee ad una chiusura al di sotto la parità. Bene, andiamo a vedere DAX che chiude a meno 0,54%, poi abbiamo un IBEX che chiude a meno 1,06%, un CAC di Parigi a meno 0,42%, un FUZI Londra a meno 0,62%, ed il FUZMIB che chiude con la peggiore performance della giornata è precisamente a meno 1,28%. Oggi ci sono stati tre dati, uno in arrivo dalla Germania stamattina presto con il tasso di disoccupazione che nel mese di agosto si è attestato al 5,2%, rimanendo stabile rispetto a luglio e a mesi precedenti, da maggio che la disoccupazione del paese della Merkel rimane invariata, mentre dagli Stati Uniti le richieste dei sussidi di disoccupazione relativi alla settimana del 25 agosto sono state pari a 213.000 unità, il rialzo rispetto alla settimana precedente, quando erano state pari a 210.000 unità. Il consensus era pari a 212.000 unità. Mentre invece per quanto riguarda il prodotto interno lordo del Canada ha segnato nel secondo trimestre 2018 una crescita del 2,9% su base annualizzata rispetto al periodo precedente, nel primo trimestre il PIL era salito dell'1,4%. Gli analisti si aspettavano una crescita del 3,1%. Domani invece, venerdì 30 agosto, ultima giornata della settimana, nonché anche ultima del mese di agosto, quindi che chiude definitivamente il periodo estivo e quindi poi dal mese prossimo ci troviamo al nuovo mese, il mese di settembre, quindi si ritorna un po' alla normalità praticamente. Quindi abbiamo domani a 1,50 dal Giappone abbiamo la produzione industriale del mese di luglio, alle ore 11 l'indice dei prezzi al consumo di agosto, alle ore 11 i tassi di soccopazione della zona euro e poi alle 16 l'indice di fiducia relativa all'università del Michigan. Bene, adesso andiamo a vedere quello che è successo per quanto riguarda la situazione legata al future del dollar index, rimbalzo, rimbalzo sopra 94,41 quindi ha praticamente la zona supportiva, il supporto quindi ha fatto la propria parte, quindi c'è stato questo rimbalzo, vedete proprio rimbalzo proprio tecnico, quindi un rimbalzo chirurgico più che altro dove il prezzo ritorna un'altra volta a sedere e si riporta 94,72, riuscendo praticamente a recuperare il terreno perso negli ultimi giorni. Bene, adesso andiamo a vedere invece quello che è successo per quanto riguarda i principali listini, le principali coppie, le principali operazioni, i principali cross, partiamo dall'euro dollaro. L'euro dollaro siamo ancora sella mercato, quindi abbiamo recuperato, c'è stato questo recupero da parte dei venditori proprio nell'ultimo pezzo, nella giornata di oggi e i prezzi quindi sono, le quotazioni sono riportate sotto 1,16782, vedete quindi c'è stato un rientro alle vendite, quindi se stasera il prezzo chiude, riuscirà a chiudere sotto 1,16782, potremmo assistere ad una ulteriore movimentazione ribassista che potrebbe accompagnare la giornata di domani. Mentre invece per quanto riguarda la sterlina dollaro, il sell limit stamattina è stato triggerato, in questo momento stiamo in leggero profitto, in un profitto praticamente di un 5 punti, vedete in questo momento c'è stato un recupero da parte dei compratori, però la situazione in questo momento rimane, vedete abbiamo una falsa rottura di 1,30186 e in più abbiamo sul cable, si è formato appunto questo pattern armonico che in ottica H4 ed è una beverage max guard, le vedete dove il prezzo si è portato, vedete va a chiudere diverse volte sotto 1,30186. Per quanto riguarda la seduta odierna abbiamo praticamente ci sono state diverse chiusure, un target su euro franco, allora a 1,1345, quindi target che è stato raggiunto su questa zona, su questo livello, quindi un target praticamente su euro franco di 75 punti, poi per quanto riguarda gli indici abbiamo chiuso a target anche il DAX, il DAX praticamente a 52 punti, andiamo a vedere un attimo, quindi 52 punti per il DAX, eccoci qua vedete c'è stato una bella movimentazione, vedete il prezzo ha chiuso in sopra, rimbalzato sopra al supporto intraday a 12.443 dove abbiamo preso profitto di 52 punti, in questo momento vedete stiamo, e poi avevamo le due operazioni, una l'abbiamo chiusa a brecchimene e in altra praticamente siamo andati a target, in questo momento il prezzo sta in una fase di leggera congestione, al di sopra 12.476,10 mentre invece per quanto riguarda abbiamo chiuso CAD franco a 40 punti, New Zealand CAD a 10 punti e AUD CAD sulla parità, proprio infatti per quanto riguarda AUD CAD stavo guardando la situazione legata al AUD CAD, vedete però in questo momento sta di nuovo continuando questa, l'ho chiusa praticamente l'ho chiusa a 0.94, 294 e in questo momento è ritornato di nuovo a salire per quanto riguarda AUD CAD. Bene, questa è la situazione per quanto riguarda AUD CAD, poi andiamo a vedere le altre operazioni che abbiamo a mercato, EURO sterlina, EURO sterlina su indicazioni di questo pattern armonico e siamo praticamente siamo entrati a mercato su questo proprio a 0.9714 proprio su un massimo assoluto e in questo momento piano piano ci stiamo avvicinando al primo target, mancano circa 25 punti, in questo momento appunto tutte e due le operazioni misurano 110 punti. Poi abbiamo New Zealand Yen, SELL, anche qua stiamo su New Zealand Yen, SELL quasi 50, eccoci qua, 50 punti, ci stiamo arrivando a 73, 714, poi abbiamo AUD Yen, AUD Yen a 40 punti, eccoci qua, il target l'ho sistemato su questa zona e poi abbiamo EURO dollaro australiano, in questo momento ci troviamo a meno 10 punti, però diciamo che abbiamo questo punto di swing, in questo momento sta facendo una correzione classico 1.2, questo la possiamo andare a vedere, vedete sopra su H1, andiamo a tracciare Fibonacci, vediamo un po', vedete come si è fermato proprio sul 61.8, bene, per stasera è tutto, grazie mille per l'attenzione, quindi ci aggiorniamo direttamente domani mattina con la diretta live delle ore 8.30, buona serata a tutti. gente, per scripture, vianchamarsi con le moto, 1.2, per ult 색mi sono